Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Timo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2024. In questo nuovo video vi riporterò un'indiscrezione molto molto interessante sulla Master League. Quindi mi raccomando, se siete interessati all'argomento guardate tutto il video, ma come già detto voglio sottolineare che si tratta di indiscrezioni e non sono assolutamente notizie ufficiali. Quindi, se non siete interessati alle indiscrezioni, fermatevi in questo momento. Ragazzi, questa parte è fondamentale, non dimenticate l'iscrizione con la campanella attivata, ma soprattutto non dimenticate di lasciare un bel like a questo contenuto. Più like ci saranno, più video informativi sui football porterò sul canale, quindi se apprezzate questo tipo di lavoro mi raccomando supportatemi. Tra l'altro nel commento fissato in alto trovate l'ultimo video del socio Alebenn86. Siamo arrivati a 2000 iscritti ragazzi, lo state supportando davvero tanto e vi consiglio di continuare a farlo. Infatti vi chiedo i 2100 iscritti per il socio, quindi andate e iscrivetevi. Trovate, come già detto, il link del suo ultimo video nel commento fissato in alto. Ma non lo dovete fare tanto perché ve lo dico io, raga, ma perché veramente lui sta migliorando a livello qualitativo su YouTube, anche a livello tecnico. Sta portando contenuti sempre migliori e ne porterà ancora. Tra l'altro a breve mi vedrete anche sul suo canale, perché stiamo organizzando una serie con me, ospite fisso. Quindi ragazzi, un motivo in più per andare a seguirlo. Come già detto, trovate il link nel commento fissato in alto. Ok ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo e andiamo subito a leggere l'indiscrezione piccante, importante di quest'oggi, perché si parla di Master League, indiscrezione che anche questa volta, ma non è sempre così ragazzi, anche questa volta però, arriva da Renan Galvani. Il nostro galvanino brasileiro ci dice ti sei mai fermato a pensare che la Master League potrebbe essere la mia Lega, quindi il My League, la famosa modalità che è stata trovata nei codici di gioco da Durand il PS che dovrebbe uscire a breve, continua dicendo ti sei mai fermato a pensare che il campionato Master, cioè la Master League, potrebbe non essere esattamente come lo conoscevamo in passato. E questo non significa necessariamente che sarà migliore o peggiore. Rifletti su questo, un abbraccio. Quindi Galvanino ci dà quest'input, ci dice ragazzi, è possibile che la Master League verrà eliminata per far spazio a una nuova modalità, diciamo, che va a rappresentare l'evoluzione del campionato Master. Tra l'altro un utente fa notare un'altra cosa molto molto interessante e ci dice, se sul sito, quest'utente di TaoBR27, che non è un influencer, è un... facente parte della community di Galvani che risponde appunto su Twitter, se sul sito web di Konami non sono più presenti informazioni con il nome Master League, e questo è vero, sono state eliminate tutte le informazioni sul campionato Master. Qualunque informazione ufficiale con scritto campionato Master, e ce ne sono state sia sul sito ufficiale che sul account Twitter ufficiale gestito da Konami, è stata eliminata. Completamente scomparso. Quindi, in vista di questo che è successo, dice, è possibile sostituire... è possibile che verrà sostituita la Master League con il MyLeague. Anche perché, ci fa riflettere anche su questo, il MyClub, che si è chiamato così per tanto tempo, è diventato Dream Team, ma alla fine è più o meno la stessa cosa. Ragazzi, purtroppo, come ha detto, ci sono... Ma le tue informazioni su questo modo di essere pagato sono ancora valide? Nel senso, sta chiedendo in brasiliano, il traduttore di Google fa schifo, sta chiedendo in brasiliano se ci sono nuove informazioni o quelle che ha avuto sono ancora valide. E Galvani risponde, zero informazioni sulla Master League da mesi. Mi sembra che da qualche mese fa ad oggi le cose siano cambiate da quando è cambiato Kimura. Perché, ragazzi, se vi ricordate, è stato un attimo cambiato ai vertici di football, in comando. Ne abbiamo parlato qualche mese fa, ma non voglio dilungarmi troppo, perché se siete interessati andate a recuperarvi video. Comunque, ragazzi, molto interessante questa riflessione, perché ci fa capire che potrebbe essere così. Cioè, in effetti, la MyLeague potrebbe essere la nuova Master League. Io non so adesso, non so adesso, se effettivamente sarà così. Non so se questa MyLeague sarà una cosa davvero simile alla Master League, o sarà un qualcosa di completamente diverso, che magari non c'entra niente con la Master. Quel che so è che la MyLeague dovrebbe essere una modalità offline, che richiede l'accesso online per giocarci, ma comunque giocata contro intelligenza artificiale. Quindi, visto e considerato, come ha detto Galvani, che tutte le info, e anche come ha detto l'altro utente di Tao, BR27, che tutte le info della Master League sono state cancellate dal sito ufficiale e da Twitter, potrebbe, e dico potrebbe essere anche così. Cioè, potrebbe essere che la MyLeague in realtà è la Master League. Io non pensavo, sinceramente, a quest'ipotesi nelle settimane passate, ma finché Galvani adesso ha detto, ha fatto questo pensiero, e effettivamente mi ha fatto un attimo riflettere. Ci ho pensato un attimino prima di fare questo video, no, però ho detto, è giusto comunque informare la mia community, informare la community italiana di questa possibilità. Che rimane una possibilità, ragazzi, ed è probabile, perché chiaramente potrebbe essere così, considerando, come già detto, la cancellazione di tutte le info dal sito Konami, dal Twitter, ma non ne abbiamo la certezza. Quindi mi raccomando, ragazzi, e dico mi raccomando, mi raccomando, non andate a dire in giro che sono informazioni ufficiali. Non diciamo in giro che è sicuro che la Master League verrà sostituita dal MyLeague, perché non è sicuro. Io nei primi 30 secondi di questo video vi ho detto, sono indiscrezioni, fermatevi se non vi interessano, e quindi essendo indiscrezioni, chiaramente si tratta di qualcosa di non certo, assolutamente. Potrebbero essere tutte cavolate, potrebbe succedere esattamente il contrario, cioè che la Master League è la Master League e il MyLeague è un'altra modalità. Non lo so, io non mi voglio sbilanciare. Quello che vi posso dire è che spero tanto che non sia così, spero tanto di riavere la vecchia e cara Master League così com'era. Perché poi, tra l'altro, ragazzi, non vuol dire che se comunque, metti caso che cambia solo il nome, mi va bene comunque, ma non vorrei che fosse una cosa proprio diversa, che non è la carriera, che non è la Master League, che è un contentino per gli amanti dell'offline, con un po' di Master League e comunque collegato al Dream Team, per avere premi, eccetera. Non vorrei che fosse così, spero tanto di no, ragazzi, con tutte le mie forze, spero di avere la vecchia Master League a livello di concept, a livello di modalità. Poiché si chiama Giovanni, Francesco, non mi interessa, si può chiamare pure... gioca la carriera, si può chiamare, a me non mi frega niente. L'importante è che a livello di concept sia uguale o comunque similare, quanto più possibile, alla vecchia Master League, con qualche miglioramento. Ma quello che non voglio è una modalità contentino, dove prendono un pochino dalla Master e in realtà è tutto finalizzato ad avere dei premi nel Dream Team. Speriamo che non sia così. Speriamo veramente che non sia così. Beh ragazzi, io direi che per questo video può bastare, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ricordo a tutti per l'ennesima volta che si tratta di indiscrezioni, ragazzi, mi raccomando, sono indiscrezioni. Non è roba ufficiale, ripetiamolo ancora. Sono indiscrezioni, quindi non è roba ufficiale. Non diciamo in giro che è ufficiale. Qualcuno di voi mi prenderà per pazzo, visto e considerato che ripeto dieci volte che sono indiscrezioni, ragazzi, sono indiscrezioni. Ma sono costretto a dirlo che sono indiscrezioni, altrimenti qualcuno di voi mi dice che dico fake news, invece sono indiscrezioni. Quindi prendiamo tutte con le pinze. Contate quante volte l'ho detto, dieci, quindici possono bastare? Assolutamente no. Lo dovrei dire un miliardo di volte e comunque ci sarebbe qualcuno che mi accuserebbe appunto di fare in fake news. Ma è questo il mondo dell'internet. Fatemi sapere chiaramente nei commenti che ne pensate di queste indiscrezioni. Fatemi sapere se secondo voi la Master League rimarrà la Master League o se effettivamente verrà sostituita da questa nuova modalità, ovvero il My League. Io come sempre vi ringrazio per essere stati mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragazza!